In esposizione potete vedere alcuni lavori svolti dagli alunni negli anni scorsi. Come potete notare si tratta di piccole opere d'arte eseguite con cura, applicando le tecniche proposte. Da un mosaico all'acquerello ai semplici pastelli, passando per il disegno con il chiaroscuro. E per finire qualche esempio di pittura a tempera.